Buonasera, buonasera anche dal TGN. Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato sentito per più di tre ore dalla PM Maria Cristina Rota che sta indagando sulla mancata chiusura della mancata istituzione della zona rossa della Val Seriana. Come sapete il PM Rota aveva già incontrato il governatore Fontana e l'assessore alla salute Giulio Gallera e sembrava in un primo tempo che il PM ritenesse che la responsabilità fosse esclusiva del governo. Bene, oggi i giornalisti hanno chiesto al PM Rota se è vero che ritiene il PM che la mancata zona rossa sia esclusiva responsabilità del governo. Bene, lei ha detto no, non ho mai detto questo, ha anche detto che non ci saranno indagati, al momento non ci sono scusate indagati e comunque che le audizioni si sono svolte in un clima sereno di discussione e collaborazione istituzionale. Quindi una piena collaborazione istituzionale tra il PM e il governo. Adesso in questo momento sta ascoltando, il PM sta ascoltando il ministro dell'interno della Morgese e il ministro della Salute Roberto Speranza e per cercare di capire appunto dove stanno le responsabilità, se ci sono delle responsabilità sulla mancata istituzione appunto della zona rossa. La notizia comunque è questa, ovvero che sembrava in un primo momento che il PM desse la responsabilità esclusiva al governo e quindi togliesse la responsabilità alla regione Lombardia ma quello che ha detto oggi fa ricominciare insomma tutto da capo. E all'interno della regione Lombardia ci sono ovviamente quelli che ritengono che la colpa sia della mancata istituzione della zona rossa che avrebbe sicuramente risparmiato molti morti sia del governo e altri invece che ritengono che sia di tutti e due o solo della regione Lombardia. Abbiamo sentito due consiglieri regionali che ovviamente sono di idee completamente diametralmente opposta che sono Max Bastoni della Lega e Elisabetta Strada dei Lombardi civici europeisti. Sentiamoli. Istituire la zona rossa è evidente ormai a tutti, era competenza dello Stato ma lo dichiaravano gli stessi esponenti di governo e addirittura c'è un documento che dice come la responsabilità di istituire la zona rossa in caso di emergenza spettasse solo ed esclusivamente allo Stato. Pertanto anche la magistratura sta facendo emergere questa cosa e quindi tutte le accuse che vengono fatte a regione Lombardia vengono a cadere automaticamente. Anche la regione avrebbe potuto prendere una decisione in autonomia e chiudere la valle anche se questo ovviamente inficiava su tutto un discorso economico perché la valle è molto grande quindi c'era anche tutta una serie di imprese coinvolte e sarebbe stata una decisione di grande responsabilità e di grande una decisione anche difficile da prendere. Io credo che sia stato un errore sia stato un errore sia a livello nazionale non farlo ma anche Lombardo quindi una responsabilità di tutti e che ha pagato questo numero elevatissimo di morti e questo è stata per noi una grande tragedia, è un grande sbaglio. Ma sentiamo anche il sindaco, il sindaco di Nembro che è Claudio Cancelli che ha detto è mancata la coesione solidale tra due livelli istituzionali che gestiscono la salute ovvero governo e regione. È giusto cercare la verità ma ancora più importante imparare dagli errori fatti anche nostri. Governo e regione avevano le responsabilità di decidere in sé insieme. Entrambi erano coinvolti ma ognuno aspettava l'altro. Dovere comune invece era ascoltare l'istituto superiore di sanità. Oggi il rapporto dei morti di covid-19 ufficiale rispetto a quelli reali è di due volte e mezzo. Si evidenzia una forte difficoltà a lavorare dati frammentari spesso sbagliati seppure semplici. Ancora oggi per esempio sulle date dei decessi il sistema sanitario della Lombardia accusa il sindaco ci fornisce dati sbagliati. Adesso veniamo a Milano. C'è un affondo del sindaco di Milano Beppe Sala che boccia gli stati generali senza spazio alla politica del territorio quindi a sindaci e governatori. Ma Sala parla anche del suo futuro e di un'eventuale corsa bis a Palazzo Marino. Sentiamo Jacopo Casoni. Basta una frase anche un po' trascinata quasi anacquata. Basta poco però per essere taglienti definitivi certamente scomodi. Chiedi al sindaco Sala un parere sugli stati generali pompati a dismisure attesi come una sorta di messia politico e quindi profano? Ecco qua lo schiaffo che è già un livido sulla guancia di qualcuno. Ma lei parteciperà? No, no, non sono invitato. Lei non è invitato. Non voglio essere provocatore, anzi voglio essere preciso. Noi abbiamo sul territorio politici con una grandissima esperienza, abbiamo ministri che sono capitati ma nella storia e non solo in questo governo che capitano lì per le decisioni dell'ultima notte. Questa è la realtà. Qualcuno può prendere bene, qualcuno può rendere male le mie parole ma questa è la realtà. E quando c'è da riflettere sul paese, chi sta sul territorio sparisce. È incredibile. Parla da Milano Beppe Sala. La Milano che, dice lui, è entrata nell'occhio del ciclone Covid con una disoccupazione al 6% e ne uscirà forse con un numero a doppia cifra. Ma all'orizzonte c'è anche un voto che si avvicina e che Sala un po' congela. Se dovessi decidere oggi rischerei di dire non ce la faccio perché sono schiacciato dalla fatica di 4 anni da sindaco con l'ultima fase così dura e 5 anni di espo che le garantisco. Non sono state una passeggiata di primavera perché per molto tempo abbiamo lavorato nello scetticismo generale. Voglio prendere un attimo di tempo, voglio respirare un po'. Non ho altre ambizioni, però sono molto stanco. Per cui ci penserò anche durante le vacanze a settembre, ottobre e sornato. Vedremo, partendo comunque dall'annuncio di una riqualificazione imminente del primo quartiere di edilizia popolare di Milano donato alla città nel 1906 dalla società umanitaria, il sindaco Sala affronta il tema dell'abitare in tutte le sue sfaccettature, dalla nuova domanda legata alle coppie giovani alle quali darà risposta per arrivare al tema degli affitti e alla loro possibile evoluzione nell'età post-Covid. Sentiamolo. C'è il tema dell'edilizia popolare. Avete visto un esempio bello di edilizia popolare. In alcuni casi è chiaro che c'è da far di più. Però, prima di tutto, voglio confermare che il Comune di Milano non cederà parte del suo patrimonio di edilizia residenziale pubblico. Anzi, nei nostri progetti, nei nostri programmi e nei nostri stanziamenti ci sono fondi per continuare a migliorare questa edilizia. E infine c'è il tema degli affitti. E questo è un tema che mi preoccupa, mi tocca, perché sono molti, i ragazzi, i giovani soprattutto, che si lamentano giustamente del caro affitto a Milano. Ora bisognerà vedere cosa succederà dopo questo blocco, questo stop, questa crisi. È presumibile e forse potrebbe essere anche un bene che i prezzi degli affitti diminuiscono. Adesso veniamo ai dati, i dati che riguardano il coronavirus, i dati costanti. Non c'è strascico, infatti, per fortuna, per le riaperture. Oggi sono stati effettuati 14.837 tamponi, positivi sono risultati 272. Quindi la percentuale tra tamponi fatti e positivi trovati è l'1,8%. Le terapie intensive sono rimaste come a ieri, mentre i ricoveri non di terapia intensiva sono diminuiti di 131 unità. Sono 31 invece i decessi. Il riepilogo, quindi, generale della giornata, non mostra per fortuna un aumento dei casi positivi. Questi sono i dati riferiti a ieri, sono comunque il 70% a livello nazionale di positivi, sono tutti in Lombardia. Quindi questo ci fa pensare che siamo sempre, nonostante tutto, la regione più colpita. Ripeto, il 70% rispetto ai dati nazionali. Per quanto riguarda Milano, i positivi Milano-Città-Metropolitana sono 88, mentre sono 56 a Milano-Città. 34 a Bergamo, 30 a Brescia, 13 a Como, 4 a Cremona, 4 a Lecco, 11 a Lodi, 1 solo a Mantua, 24 a Monzebrianza, 23 a Pavia, 11 a Sondrio. Ricordiamo che ieri era stato 0 il bilancio di Sondrio e 14 a Varese. Quindi questi i dati della giornata di oggi. Allora, adesso cambiamo argomento. Da lunedì, proprio per una sorta di ritorno alla normalità, sarà attiva di nuovo Area C, mentre Area B resta sospesa. L'assessore Granelli difende la scelta che ha fatto lui, insieme alla giunta di Palazzo Marino, proprio in virtù del fatto che il traffico sta crescendo, mentre è completamente contrario al centro-destra con il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale. Vediamo. Dal 15 giugno si riaccenderanno le telecamere e i varchi di Area C, la ZTL del centro cittadino, mentre la sorella maggiore, almeno da un punto di vista dell'ampiezza, Area B, resta sospesa. Si valuteranno i volumi di traffico per decidere quando riattivarla. Anche la sosta sulle strisce blu rimarrà gratuita all'esterno della cerchia della 90-91, mentre in centro, per così dire, si tornerà a pagare già da lunedì prossimo e torneranno anche in vigore le strisce gialle riservate ai residenti. Già da ieri l'info point della stazione Duomo della metropolitana, dedicato appunto ad Area B e Area C, ha riaperto i battenti e sono comparsi cartelli agli ingressi della ZTL del centro per avvisare gli automobilisti. Una scelta legata a una ripartenza che per il traffico pare più rapida rispetto a quella dell'economia, almeno stando ai dati. Il traffico è aumentato, è ritornato circa l'80% di quanto c'era prima del Covid e quindi dobbiamo riuscire ad intervenire reintroducendo Area C per permettere a chi deve usare l'auto o comunque il mezzo a quattro ruote, i camioncini, chi deve fare attività commerciali o gli artigiani oppure i taxi, il trasporto pubblico di poterlo fare non imbottigliati nel traffico. Ma il centrodestra non ci sta. Da una parte si rischia di far pagare un salasso a quei lavoratori che non possono raggiungere il centro in altro modo visto che i mezzi pubblici hanno una capienza al momento del 30%. In secondo luogo rischia di essere un gravissimo colpo per il settore del commercio. In questo momento il centro storico è forse la zona dove il commercio è più depresso. Queste le voci, maggioranza e opposizioni, ma a proposito di trasporti ci sono anche i tassisti che si lamentano. Sto parlando di Taxi Blu, vi ricordate che avevano fatto una manifestazione portando in giro per la città una bara di cartone che rappresentava i loro taxi. Hanno detto che saremmo anche la locomotiva d'Italia, ma evidentemente qualcuno qui in Lombardia decide che il treno viaggia senza taxi. E quello che a me, dice Emilio Boccalini, presidente di Taxi Blu, il più grande radiotaxi di Milano, alla maggior parte degli operatori, viene da pensare alla luce del totale abbandono da parte delle istituzioni, comune, governo e regione. Quella stessa regione Lombardia sotto la quale ci siamo ritrovati ieri per un presidio che ha visto l'adesione di quasi 500 colleghi. Per ricordare a qualcuno che tendiamo ancora delle risposte a seguito dell'incontro avvenuto in quella sede ben tre settimane fa. Risposte che sarebbero dovute arrivare nell'arco di 48 ore, ma che non sono mai arrivate. E se nel resto d'Italia le regioni si sono mosse per aiutare i tassisti, con misure che a questo punto basterebbe copiare, poi in Lombardia non si muove nulla, neanche pochi centesimi per aiutare la categoria, a fronte di una spesa per il trasporto pubblico da 1 miliardo e 200 milioni di euro. Poi, certo, ad alti livelli istituzionali non va meglio, ma dato che saremo in teoria regolati e tutelati da una legge regionale, forse è il caso che qualcuno in quella sede, cioè la regione, cominci a tutelarci. Dopo Papa Francesco Colosciarda, sui muri di Milano, lo street artist internazionale ex Alexandro Palombo rende omaggio a George Floyd attraverso i personaggi dei Simpson. Nelle ultime due opere, comparsa questa mattina in via Torino, angolo via Palla, in corso Buenos Aires, direzione Loreto, l'artista ha ritratto in una la classica scena della sigla della sitcom animata statunitense in cui Bart è alla lavagna. Questa volta però la punizione è scrivere Who is the next? Con a fianco una statua della libertà, con il cappuccio del Ku Klux Klan e la sua famiglia arrabbiata. Nell'altro lavoro invece si vede George Floyd con una grande scritta Just because I am black con Bart accanto che afferra un secchiello con su scritto Black Lives Matter. Questa appunto l'opera. Cambiamo adesso argomento, anche se parliamo ancora del dopo Covid, perché il 48% delle imprese del settore terziario non ha ancora avuto accesso alla cassa integrazione. La denuncia arriva da Confcommercio che dipinge un primo quadro della fase 2 con numeri che certificano una crisi epocale per alcune categorie e una sofferenza generale. Vediamo. A fine aprile praticamente nessuno aveva visto un euro. La percentuale di cassa integrazione erogata nel settore terziario era un misero 4%. Oggi siamo comunque poco oltre il 50% e ormai in piena fase 2 la ripartenza annunciata è quantomeno zavorrata da questo dato e non solo. Dopo quattro mesi dall'inizio della crisi permane una forte difficoltà da parte delle imprese del terziario. In particolare quasi la metà delle aziende non ha ancora ottenuto gli ammortizzatori sociali per i propri dipendenti. Gli indenizi a fondo perso arrivano col contagocce è quindi fondamentale una svolta immediata per evitare dei danni irreparabili al sistema delle imprese con conseguenze imprevedibili anche per la tenuta sociale del paese. Questo la Fondo di Confcommercio ha corredo di un'indagine che ha certificato una serie di valutazioni degli imprenditori del settore. A ottenere il famoso finanziamento bancario fino a 25.000 euro è stato il 32% del totale delle imprese. Il 65% indica come prioritaria l'erogazione di contributi a fondo perduto. a più di un mese dall'avvio della fase 2 il 15% degli imprenditori non ha ancora riaperto. Tra i vari campi chi denuncia una riduzione degli affari insostenibili sono le aziende che offrono servizi alla persona dai parrucchieri ai centri estetici con affluenza ferma al 33% rispetto al pre-Covid la ristorazione 31% le agenzie viaggi 8% e gli alberghi che fanno segnare un 6% che racconta una crisi senza precedenti. Serve un cambio di passo repentino ne va del futuro di interi settori dell'economia lombarda e del presente di tanti lavoratori senza stipendio e senza ammortizzatori sociali. Parliamo ancora di Milano nella stazione Sant'Ambrogio iniziano le attività per la seconda fase della realizzazione del collegamento sotterraneo tra la M2 e la M4 per questa ragione da lunedì prossimo la configurazione del quartiere del cantiere cambia l'area di lavoro della Pustarla viene esteso collocandosi all'altezza dell'ingresso della stazione M2 di via Carducci durante il periodo estivo la viabilità rimane garantita con una corsia per senso di marcia in direzione via Diamici se per i mezzi autorizzati verso piazzale Cadorna da settembre del 2020 per circa un anno la disposizione del cantiere consentirà di allargare a due corsie e la strada in direzione di via Olone via Diamici mentre in direzione piazzale Cadorna rimarrà a una corsia ieri la cronaca ieri pomeriggio in zona Niguarda a Milano la polizia di stato ha arrestato un italiano di 25 anni con precedenti di polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio gli agenti della squadra investigativa del commissariato Villa San Giovanni dopo un'attività info-investigativa che ha portato alla segnalazione di un'attività di spaccio in un appartamento di via Ornato ha effettuato un servizio di appostamento che ha portato alla successiva perquisizione dello stesso i poliziotti nell'abitazione dove abitava il 25enne hanno rinvenuto una busta di cellofana nascosta nella vaschetta di carico dei detersivi con all'interno 46,32 grammi di cocaina e un involucro di 5,66 grammi della stessa sostanza nella tasca di un giubbotto nonché un bilancino elettronico di precisione 150 euro trovati in un cassetto della cucina la vita torna normale come abbiamo detto quasi normale e conto alla rovescia anche per tornare al cinema ma solo all'aperto da lunedì infatti nuovo step della fase 3 con la riapertura delle attività estive per ragazzi ma anche di locali notturni e cinema all'aperto a Milano si prepara la tradizionale rassegna di cinema targata Anteo che parte martedì 16 giugno nel cortile di Palazzo Reale come avete visto dove tutto è quasi pronto per accogliere i primi spettatori della fase 3 in calendario la proiezione di alcuni tra i migliori film italiani e stranieri usciti in sala poco prima del covid-19 ma anche titoli inediti film per bambini e famiglie rassegne tematiche le proiezioni inizieranno alle 21 e 45 i biglietti costano 7 euro e mezzo il prezzo intero 5 e mezzo ridotto 4 e 50 per chi è socio del cinema e potranno essere acquistati presso la cassa Arianteo a Palazzo Reale ma è sempre meglio questo tutto per quanto riguarda l'epoca post-covid effettuare l'acquisto dei biglietti online con questa notizia mi fermo qui questa sera torna al grande calcio anzi torna al calcio questa sera con la semifinale di Coppa Italia Milan-Juventus noi ovviamente seguiremo la partita nel pre-partita il durante e soprattutto il post-partita con tutti i nostri ospiti in studio anche collegamenti via Skype ma prima della grande serata dedicata a Milani il notiziario sportivo con le altre notizie della giornata è tutto arrivederci